La Cereglia è stata la prima acqua al mondo a ottenere il riconoscimento EPD. Per noi la motocicletta rossa non è solo una motocicletta rossa, è una moto dietro la quale c'è passione, c'è tradizione, c'è amore per il marchio. Veramente è un peccato, queste botteghe storiche vivono solo se vengono tramandate da padre a figlio. Questa azienda è stata fondata da Paolo Atti nel 1868 in via Drapperie. Sì signore, quando ho il cacao, quando mi trovo davanti a un prepotente, ho guardato il materiale e ho dato il materiale. Il cacao una volta estratto dal tostino deve essere privato dalla buccia e del germe. Una poesia in dialetto, una poesia dialettale in rima baciata. Aspettiamo i clienti per venire a provare i cappelli di ogni genere. Sono Giuliano Sancini, sono uno dei titolari della Corrocina e mi viene in pendenza 3, è il negozio più antico di Bologna. Questo è il marrone biondo dell'appennino bolognese. I prodotti dall'azienda Tizzano sono sia rossi che bianchi, tutte le tipologie doc con i bolognesi. Abbiamo recitato Brecht sui carri nelle aie dei contadini. Manca il caffè finto e diventerà un portafoto. Per noi, nella nostra vita, siamo nati e cresciuti all'interno di questo negozio. Questa è una terra di motori e quindi c'è una cultura, c'è una tradizione che affonda le radici lontano nel tempo. È straordinario il fatto che io sia qua perché in questa posizione c'è realmente mio nonno e anche mio papà. Dentro alla Torre Prendi Parte, detta Coronata, dove la mia attività è quella di fare ospitalità e di accogliere persone che vogliono celebrare e festeggiare un momento importante. Colla, mastici, cuoio, gomma, tutto quello che è di prima. A me piace molto approfondire la storia dell'oggetto. I fiori di latte, crema, cioccolato, pistacchi, nocciola, lì è la prova del nome. Purtroppo è stato mangiato molto dai topi a cui i libri piacciono parecchio. Il legno ha una venatura che si va controveno e si strappa. L'animale è ancora uno di quegli esseri che se li tratti bene ti ripagono nello stesso modo. Faccio assistenza per tutta Italia di Gibson Defender, quindi insomma diciamo che me la cavo. Deve essere cotto molto, mille gradi, come cuociamo, bisogna cuocere, cuocere, cuocere. Il vero genio che noi abbiamo avuto è stato il mio bisnonno, il Cavaliero Aldo Maiani. Buongiorno, io sono Pasquini Ennio, siamo a Bologna, in via delle Tofane 38 e ho una piccola lavorazione artigiana di salumi. Sono Chiara, siamo in vicolo Ranocchi 1 Barra D, questa è l'Osteria del Sole, dove avviene la mescita del Gino. Beh, diciamo che sono sui 45 anni di esperienza. Io sono Adriano, sono un tartufaio che da 40 anni vado a tartufaio. E noi che eravamo già droghiere, andavamo nel meglio. E per me anche le persone che tirano una sfoglia danno qualcosa alla sfoglia, come il legno. Ma me è domandata, ma me è domandata, ma è domandata, ma è domandata, perché le viensa le da necchino. E domandata, ma è domandata, ma è domandata. Grazie a tutti.